Si arriva attraverso una selezione fatta da una apposita commissione esterna alla Wilti. Quest'anno 22 compagnie hanno mandato il loro materiale, quindi il DVD con le schede e tutto. Su 22, 9 sono state scelte, era previsto 8, siccome sono piaciute tantissimo, quindi la commissione ci ha chiesto di allungare una serata il festival. Quindi 9 compagnie sono state selezionate. Queste 9 si incontreranno sportivamente qui a Campobello di Ricata sul palcoscenico della Valle della Divina Commedia. Due di loro poi saranno scelti da un'altra giuria e anche dalla giuria popolare per andare a fare la fase nazionale. A Campobello di Ricata intanto i migliori spettacoli delle compagnie Wilt Sicilia naturalmente, ma soprattutto la varietà di spettacoli, quindi non ci sarà solo il teatro tradizionale, il teatro popolare, ma avremo anche il teatro moderno, il teatro opposto drammatico, il teatro classico, quindi ci sarà la possibilità veramente di incontrare varie forme di teatro. Stasera vedremo un'opera, a mio avviso, molto particolare, perché si chiama Elisabetta e la porteranno in scena alla compagnia dei cuori svintulati di Enna, una compagnia storica. Mi piace questo spettacolo perché narra una storia vera avvenuta a Enna intorno al 1200, ma la regista Pierina Saia l'ha adattata al 1600, quindi un'opera molto complessa, due ore piene di spettacolo, ma soprattutto non è il solito teatro che siamo abituati a vedere.